Sai che la tua storia ha un senso profondissimo anche quando sembra di non averne alcuno? Tu sai che la tua storia è preziosa, perché nella tua storia è Dio che agisce misteriosamente, anche negli eventi più terribili, anche e forse soprattutto dove Dio sembra assente. È stato così per Giuseppe, venduto dai fratelli, che quando li incontra di nuovo in Egitto, ha detto ai suoi fratelli queste parole sconvolgenti. Non siete stati voi a vendermi e a farmi precipitare in Egitto. No, è stato Dio, Dio, a portarmi qui in Egitto. In Egitto ha sofferto, Giuseppe, una discesa fino al carcere per un'ingiustizia e poi ha sperimentato la resurrezione, è stato riportato in alto. Ebbene, è stato Dio che ha condotto la mia vita perché io oggi potessi dare da mangiare proprio a voi che mi avete venduto. Questa è la chiave di volta della storia di ogni persona. Il criterio per leggere la storia tua e mia, che è il criterio della croce gloriosa di nostro Signore Gesù Cristo, la croce che ha aperto e spalancato il cielo per tutti noi. La croce dove tutti pensavano che Gesù avesse fallito. Dice, davanti a lui si copre il volto, non aveva nemmeno più aspetto d'uomo. Così erano le persone condannate alla crocifissione. Non si potevano nemmeno vedere, tanto era lo strazio delle loro carni, della loro vita, della loro anima. Ebbene, Gesù Cristo, morto, ci ha salvati. Questo che sembra una cosa che si dice sempre nella Chiesa, eccetera, è la chiave di volta della tua, della mia vita, della mia storia, della tua storia. Laddove ci aspetta il fallimento, laddove siamo chiamati a morire, sì, a morire a noi stessi, a morire ai nostri progetti. Laddove sembra tutto assurdo e buio. Lì, lì, Dio sta attuando per la tua salvezza e per la salvezza delle persone che sono accanto a te, che sono legate a te, nella tua famiglia, nelle persone che lavorano con te. Quando i tuoi figli ti tradiscono, quando una persona cara ti tradisce, quando non ti capiscono, quando ti mettono al bando, quando c'è una malattia, qualcosa di terribile che accade nella tua vita e che sembra mettere fine alle speranze, mettere fine ai progetti, è lì Dio all'opera nella tua vita. Questo noi stiamo andando a celebrare nella Settimana Santa. Il miracolo che trasforma la morte in grembo di vita e vita eterna, vita che non funisce, perché Dio ha reso incorruttibile ciò che era corruttibile. Tu e Dio, la nostra vita corrotta, nei vizi e nei peccati, trasformata in un tempio, in uno scrigno, per la sua vita, per la sua grazia, per la vita che non muore. Questo è quello che ha profetizzato Caifa, pur non sapendolo che Gesù sarebbe morto per riunire tutti i dispersi di Israele, per riunire te e me, per riunire tutti i figli di Dio, dispersi, perduti nei loro peccati, nelle loro schiavitù. La morte di Gesù era fonte di salvezza, lo ha profetizzato colui il quale lo avrebbe condannato a morte. Capite? Colui il quale ti condanna a morte, colui il quale ti tradisce, colui il quale ti vuole del male, è proprio colui il quale profetizza la salvezza che Dio opererà attraverso di te. Ciò che ti uccide e ciò che ti salva e che salva le persone che sono accanto a te. E' il mistero della croce, è il mistero della Pasqua, è il mistero che tutti noi siamo chiamati a vivere insieme a Gesù Cristo in questa settimana e in ogni giorno della nostra vita.